Chi vince, o meglio, chi vincerà secondo te la gara di Slalom BI alle Paralimpiadi di Cortina 2026? Dammi una classifica! Ah vuoi una classifica? Che che però così? Allora, partiamo dal terzo. Terzo posto. Terzo posto. Terzo posto. Potrebbe andare l'Inghilterra. Terra. Secondo posto? Secondo posto l'Austria. Austria? Eh, che miseria. Questi austriaci qua proprio bisogna... Nuo posto l'Italia. E primo posto l'Italia! Con la sincerità! Andiamo via. Grande, grazie.